Buon inizio settimana a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Oggi è lunedì, lunedì 14 di settembre. Oggi inizia per moltissimi studenti la scuola. Primo giorno di scuola e dunque come di consueto anche i ritmi, i ritmi familiari cambiano, gli orari cambiano e si torna alla routine che si protrerà fino al prossimo maggio, giugno, insomma quando si tornerà poi a parlare di nuovo di vacanze e quant'altro. Quindi buon inizio a tutti voi cari studenti. Allora intanto cominciamo dal santo del giorno come di consueto. Oggi la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. Il sole è sorto alle 6.44 e il tramonterà alle 19.24. Il tempo è quello che vedete sulla fotografia della nostra webcam con cielo nuvoloso. 25 gradi, 26 gradi alle 7.30 del mattino, il che significa che c'è un vento caldo che sta alzando le temperature. Oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti maggiori nelle zone interne dove tra l'altro è possibile anche qualche piovasco, soprattutto appunto nelle zone appenniniche con fenomeni isolati ed occasionali invece altrove. Le temperature sono in ulteriore aumento, i venti nelle zone interne e settentrionali sono sud-occidentali con rafiche fino a burrasca forte, mentre lungo la costa saranno moderati sud-orientali con rafiche fino a vento fresco. Per domani invece, domani martedì 15 di settembre, a parte che manca la simbologia sulla costa per cui andiamo un po' a fantasia, ma comunque avremo cielo parzialmente nuvoloso con brevi piovaschi solo sulle zone appenniniche e quindi va da sé che lungo la costa comunque sarà soleggiato o comunque soltanto con qualche nuvoletta. Correnti sud-occidentali per i prossimi giorni, associate all'espansione di un promontorio di alta pressione dal Nord Africa, caratterizzeranno la prossima settimana favorendo l'ingresso di area più calda ed il transito di nubi stratificati, ma senza precipitazioni associate. Che significa che potrebbe tornare, come dire, una sorta di colpo di coda dell'estate, con temperature comunque che saranno davvero elevate, saranno alte rispetto alla media del periodo. Allora, dicevamo della scuola, comincia la scuola oggi, comincia anche però con una protesta che è quella degli studenti del Santa Marta, studenti del Santa Marta che come sapete a causa dei lavori di ristrutturazione all'interno dell'istituto non potranno andare a scuola, saranno dislocati in più istituti. Allora, la scuola inizia, così scrive il messaggero, ma con una protesta. Santa Marta è chiusa per lavori, gli studenti oggi in corteo fino a Piazza del Popolo a Pesaro. Intanto in provincia quasi 50.000 ragazzi sono pronti ad entrare in classe. Dunque la camparella non suonerà alla Santa Marta, si sentiranno solo i rumori di un cantiere in corso. Trapani, Bettoniere, Puntelli, niente campanelle oggi per il Santa Marta, ma gli studenti all'esterno saranno ancora più rumorosi. Un esercito che alle 8 e mezzo di stamattina si riunirà all'esterno della scuola, tutti indossando la divisa dell'istituto che forma cuochi, camerieri, metri. Ebbene, manifesteranno perché le loro lezioni inizieranno il 5 di ottobre. Poi il messaggero scrive, fa questo pezzo con tutta una serie di numeri, anche interessanti, che danno un po' il senso del polso della situazione in tutta la provincia, con ben 50.000 studenti, sono 49.890 che entreranno oggi in classe. Poi la cronaca, sempre dal messaggero di Pesaro, scende per parcheggiare l'automobile e lo scippano del Rolex. Paura ieri mattina in piazzale Carducci. Il bottino è da 15.000 euro. La vittima è un cinquantenne della provincia di Ancona che ieri mattina, intorno alle 11, è arrivato a Pesaro con un familiare per andare a visitare la fiera di San Nicola. Vedete il tempo, come dicevo, stop al maltempo. L'estate torna ancora per un po'. Il passaggio perturbato insisterà durante la notte e la prima metà della giornata di oggi, non causando fenomeni degni di nota. L'anticiclone africano poi caratterizzerà la settimana prossima, quindi questa qui, riportando notevole stabilità atmosferiche e condizioni termiche tipicamente estive. Tra quelli che stamattina andranno a scuola, sicuramente ce ne sono tanti che hanno visto, partecipato allo show di Violetta all'Adriatica Arena di Pesaro. Città paralizzata, naturalmente perché in tantissimi c'è stato il pienone all'Adriatica Arena per vedere questa ragazzina che impazza sui canali satellitari e dunque ci sarà sicuramente di che parlare questa mattina a scuola. Fiera di San Nicola, da record, superati i 300 mila visitatori, le condizioni meteorologiche e il programma prolungato hanno favorito l'afflusso, mille auto al giorno al parcheggio del Curvone. Quindi per dire insomma che le cose sono andate davvero bene. Bene insomma anche la fiera di San Nicola. A Fano il sindaco Massimo Seri scrive una lettera agli studenti per il primo giorno di scuola e intanto mentre il Santa Marta torna a scuola, riaprirà ad ottobre, c'è una scuola a Fano che è il liceo scientifico Torelli che invece riaprirà le porte agli studenti il lunedì prossimo, il 21 di settembre, quando saranno terminati i lavori di pulizia successivi alla bonifica dell'amiatto. Ecco quindi questa è l'altra scuola che non aprirà i battenti nella giornata di oggi. Poi la politica sempre dal messaggero. Il segretario del PD insediato in comune, le opposizioni protestano con Massimo Seri, il segretario in questione è quello del PD Gostoli, il centrodestra e i grillini contro la presenza appunto del segretario provinciale dentro un ufficio del municipio. C'è tutta l'opposizione fanese dal centrodestra e i grillini che chiede chiarimenti pubblici e vuole sapere a che titolo questo segretario appunto Gostoli si sia insediato tra virgolette nell'ufficio assegnato invece al gruppo del PD ai tempi della minoranza, quale attività svolga all'interno del comune, per quanti giorni ci rimarrà, se è vero che abbia solo lui le chiavi di questo locale. Poi sul fatto, sulla questione dell'erosione, il comitato fanese contesta l'ex sindaco Stefano Aguzzi. Bene, visto che l'ex sindaco Aguzzi si è dato tanto da fare per le scogliere, gli chiederemo i danni provocati dalla mareggiata del febbraio scorso, tra l'ironico e l'indispettito. Questo è il commento di Mauro Ginese, che è il portavoce del comitato Lebrecce. Poi dicevamo tutti pazzi per Violetta, ecco qui alcune ferme immagini, alcune fotografie scattate all'interno dello show e poi il festival, il festival del Brodetto, che ha fatto boom e ringrazia il Carnevale, una sinergia delle eccellenze locali e questo è il segreto per una vera valorizzazione del territorio. Fano ha unito due delle sue perle, il festival del Brodetto e delle zuppe di pesce e il suo storico Carnevale, creando una forte attenzione e attrazione turistica. Scrive così il messaggero Giornale di Roma, che definisce e parla di un successo, questa tredicesima edizione del festival del Brodetto e di questa alleanza tra Carnevale e manifestazione storica. Dunque, andiamo adesso sul Corriere Adriatico, anche qui sulla pagina di Pesaro, vedete l'alberghiero in corteo con il segno del lutto, oggi al fianco dei ragazzi ci sarà anche il Preside Nicolini, alunni divisi in cinque plessi per i lavori nell'istituto. La manifestazione arriverà in Piazza del Popolo, attesa una risposta da parte del Sindaco Matteo Ricci, i docenti riducono i disagi. Sopra i numeri, sono 49 mila gli studenti che rispondono alla campanella, in crescita il liceo scientifico con 1.550 lievi, siamo a Pesaro ovviamente, e quello linguistico, unificati il tecnico Bramante e la scuola per geometri Genga. Poi l'asilo tornerà in sede a Natale, siamo a Fossombrone, il vice sindaco replica a Mezzanotti, molti investimenti nella scuola. Poi, contratti per l'energia, quante volte sarete stati chiamati, scocciati, con insistenza da queste venditrici, venditori, vi chiedono di passare a un nuovo contratto, di fare un nuovo contratto per l'energia elettrica, perché si risparmiano un sacco di soldi, tutte stupidaggini. Vi fanno perdere tempo, sono insistenti, qualcuno ha chiamato il 112 e io direi ha fatto bene. Contratti per l'energia, questo è il titolo, venditrici, insistenti, arriva il 112. Le tre operatrici spedite a bussare casa per casa a Fossombrone per convincere gli utenti a cambiare fornitore di energia elettrica, sono state così insistenti da indurre qualche malcapitato a chiedere l'intervento dei carabinieri, che non hanno riscontrato alcun reato, ma identificato le poco gentili signorine. Sopra si parla delle provocazioni da parte di Ismaele, la vittima, il ragazzo ucciso. Non c'è nessuna prova. Il legale della famiglia Lulli non commenta le tesi dell'Avvocato Taormina. Avremo risposte chiare dai messaggi. Dunque l'Avvocato di parte civile, Martinez, che tutela la famiglia di Ismaele Lulli, che è rimasto vittima il 19 luglio scorso di un orrendo omicidio, dice, vedremo, insomma, ma non ci sono prove che Ismaele abbia appunto provocato Igli, che poi comunque l'ha ucciso. Da Fano invece, piatto povero con migliaia di estimatori, parliamo del Festival del Broditto, con questa immagine dall'alto degli stand e del pubblico che hanno occupato il lungomare Simonetti a Lido di Fano. Nei quattro giorni di manifestazione a Lido, alberghi e ristoranti affollati. La Confesa Arcenti, si dice, soddisfatta. Gastronomia volano del turismo nella bassa stagione, visitatori anche dall'estero. Due, fine settimana, due weekend, pure alla data di Urbino. La città dei dinosauri invece ha incantato i bambini, straordinario allestimento all'aeroporto di Fano, grazie a Nicusanti di Tiro e Molla e al maestro di effetti speciali Gommo Giomaro. Un'iniziativa didattica sugli animali preistorici, dal valore educativo per il riciclo di scarti e rifiuti. Ancora qui sotto formiamo i cittadini l'augurio del sindaco agli alunni che iniziano oggi la scuola e a tutto il personale scolastico, formiamo i cittadini per un afano migliore. Il sindaco ha rivolto un pensiero e un augurio per un buon inizio di anno scolastico a tutti gli alunni che oggi si apprestano a ripartire o intraprendere per la prima volta il loro percorso di studi. E già, perché non c'è solo quelli che ci tornano, che magari fanno la seconda, la terza, la quattro, ci sono anche quelli che debuttano e che insomma hanno un'emozione in più, perché trovano amici nuovi, è un ambiente nuovo, insomma, quindi per loro l'adrenalina è sicuramente più alta. Allora, per quanto riguarda il Fano Calcio, per il Fano Calcio, per quanto riguarda la pagina sportiva andiamo sul resto del carrino. Il Fano ha vinto, ha vinto ieri in trasferta contro l'Agnonese, ha vinto per 1-0. Borrelli, bordata da tre punti, Fano sfonde il muro del Civitelle, vittoria sul campo tabù di Agnone, prova di forza De Granata, bravi a resistere nel finale. Poi ci sono le pagelle e sotto la dichiarazione del mister Alessandrini, Marco Alessandrini, che dice abbiamo vinto su un campo dove sarà dura per tutti. Il tecnico Granata, questi punti sono punti pesanti, mentre il rammarico di Bucci, gara decisa da episodi e da tanti dubbi sul gol annullato a Pifano. Mentre la Vispesero, la Vispesero ha perso la sua prima di campionato, a Isernia ha perso 1-0, la Visse non decolla, scivolone a Isernia, un gol di Panico nel primo tempo, manda al tappeto i pesaresi, inutile la reazione nella ripresa. Allora, torniamo sul resto del Carlino perché ci sono appunto le notizie da leggere. Allora, velocemente i giorni di San Nicola, si affianca all'auto con lo scooter, gli scippa un Rolex da 20.000 euro, rapina con destrezza in piazzale Carducci, ai danni di un impiegato. Mai così tanta gente alla fiera, una sola rinuncia tra gli ambulanti, oltre 300.000 visitatori rimasti fuori altri 70 commercianti, la chiusura poi con i fuochi d'artificio. Se davvero Igli è stato provocato, perché non l'ha detto subito? L'avvocato della famiglia Lulli replica la nuova versione della difesa guidata da Carlo Taormina. Poi Vale, Valentino Rossi, parliamo di MotoGP, Vale ha deciso per la pioggia, poi c'è stata un po' di fortuna. A Misano, Lorenzo K.O. e Graziano Rossi racconta il più 23. Battuti tutti i record di presenze e pubblico, è mancato solo il podio. Ancora dalla pagina di Fano del resto del Carlino, Vivete la scuola con gioia, il sindaco di Fano Massimo Sere scrive agli studenti. Poi sotto il bilancio del Festival del Brodetto, sempre più internazionale, la tredicesima edizione ha dato grandi soddisfazioni anche per le iniziative culturali che si sono svolte e tenute ad Urbino. Poi per chiudere, anche qua, tutti pazzi per la bella Violetta, per il concerto Disney, sono andati a ruba pure biglietti che costavano 500 euro, attesa per vedere il cast e poi uno spettacolo impeccabile. La rassegna stampa di Fano TV, Occhio ai giornali, finisce qui. Noi ci rivediamo questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.